E continua a far discutere il tracciato della nuova ferrovia Pescara-Roma. Il comitato cittadino di Manopello, che contesta il progetto, ha deciso di appellarsi al Consiglio di Stato. Roberta Mancinelli. L'amministratore delegato di RFI, con data 30 gennaio 2024, scrive al capo di gabinetto del Ministero delle Infrastrutture per chiedere una cosa molto semplice. Guardi, noi abbiamo fatto tutto come RFI. Abbiamo fatto i progetti, abbiamo mandato le lettere di esproprio. Ma la certezza dei fondi qual è? Certezza dei fondi e sostenibilità del progetto ex PNRR. Andrà al Consiglio di Stato, il comitato che riunisce cittadini di Brecciarola e Manopello. Confer propone un tracciato alternativo, lo si vede in rosso, che agganci l'interporto. Il comune di Manopello, anni fa, nel 1996, aveva approvato l'interporto a condizione che si spostasse il tracciato ferroviario. Per noi è un'opportunità questo spostamento della ferrovia. Noi siamo contrari alla scelta del tracciato dove è adesso. 93 milioni e mezzo di espropri per i lotti tra Brecciarola di Chieti e Scafa. La signora Gabriella è una delle residenti interessate. È un legame affettivo, quindi non c'è prezzo per questa casa. Quanto le hanno proposto? Niente, non so ancora niente. E a venire giù non saranno solo case, circa 80, ma anche aziende. Ho manifestato sempre la stessa idea, cioè quella di poter avere un opificio identico a questo, già attrezzato, dopo è possibile il trasferimento. Noi abbiamo contratti pluriennali con determinati clienti che non ci permettono fermi di produzione. A fine lavori si arriverà a Roma in due ore con sviluppo del traffico merci e possibilità di servizi metropolitani tra Chieti e Pescara. Il comitato ribadisce di chiedere solo un tracciato alternativo come da progetto, sottoposto ad RFI e ministro per le infrastrutture.